. Salve ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Mega Man Battle Network 5 Double Team DS. Dopo un bel po' di parti che non commentavo per arrivare via di un problema al microfono, rieccomi qui. Ok, adesso dobbiamo raggiungere Netnavi Ninja, cioè la persona con cui abbiamo parlato. Quindi per lantare dobbiamo andare su questi teletrasporti che ci manterranno in varie aree. Prendiamo i dati misti. Seguite attentamente i miei passaggi. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Si. Ok, eccoci. Questo sarà il Netnavi Ninja. E' Shadow Man. Speriamo che veniamo disconnessi. Speriamo tremendi. Questo scomparirà Ma che c'è pasta Adesso A casa Collegiamoci A PC Vediamo Colonell Seguiamolo Andiamo su questo Varco di trasporto Ci sarà anche Nightman Ok adesso Quindi Avremo anche Nightman Al nostro fianco Come Colonell Alla prossima Facciamo il download Su Nightman Vediamo che comparirà Lui Se facciamo il download Su Colonell Lirà Lui Adesso scelgo Lascio Lascio Colonell Vediamo che c'è Di nuovo Costa Ok Nuovo Costa Ok Cominettiamoci Non so se ho capito bene Si dobbiamo andare Da computer Fino all'area Orange Quindi ragazzi Taglio E ci vediamo E ci vediamo Direttamente All'area Orange Ok Eccoci Sono rimasti 6 agenti Nell'area 1, 2, 3 Dobbiamo eliminare 2, 3, 2, 3 Cerchiamo Eccolo 1 Ok Di una è fuori Uno è sopra Allora 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 ok ragazzi stoppo e quando trovo un agente, riprendo ok ragazzi un altro è nell'area orange 3 si troverà qui ok stoppo eccolo un altro ecco un altro ok ragazzi un altro è nell'area 2 sconfiggiamolo ok questo credo sia l'ultimo ok ragazzi abbiamo abbattuto tutti gli agenti anti nebula rimasti le poniamo a beryl ok 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 ragazzi per oggi mi fermo qui spero che la parte vi sia piaciuta commentate e iscrivetevi qui era Fox24 vi saluto ciao 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 ciao